Cari pellegrini, purtroppo il 2024 è iniziato come l'anno precedente, sulla stessa falsa riga dell'anno precedente, anzi addirittura in maniera ancora più preoccupante perché abbiamo visto non solo che il cosiddetto conflitto russo-ucraino continua ma si sta rinfocolando, anzi si sta estendendo pericolosamente anche il conflitto medio orientale. Questi due attentati, meglio l'uccisione del leader di Hamas in Libano e presso il rione degli Hezbollah e poi l'attentato in Iran sicuramente sono fatti molto preoccupanti che potrebbero causare un ulteriore in asprimento non solo del conflitto ma soprattutto una estensione del conflitto stesso. Eppure poche ore prima, possiamo dire così, poche ore prima Papa Francesco ha invocato, ha invitato alla preghiera, ha pregato perché le guerre potessero diciamo terminare oppure potessero diciamo alleggerirsi eccetera. Ora vedete c'è una frase di Gesù che dice così di chiedere prima di tutto il regno di Dio e poi tutto il resto sarà dato in aggiunta. Aspirate al regno di Dio, ponete il regno di Dio come primo obiettivo dice nostro Signore e poi tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Ora è evidente che qui adesso non vogliamo puntare il dito anche perché poi inevitabilmente lo dovremmo puntare soprattutto verso noi stessi, non vogliamo puntare il dito. Vogliamo semplicemente però fare una pacata riflessione ma nello stesso tempo anche doverosa riflessione. Ora vedete le nostre preghiere, le nostre preghiere come Chiesa sono preghiere che molto spesso falliscono. Perché? Perché abbiamo fondamentalmente tradito quello che è il mandato della Chiesa stessa. Il mandato della Chiesa è quello di salvare le anime, di salvare le anime. Certo, questo non significa non doversi preoccupare di tutte le faccende in positivo e molte volte ai noi in negativo che avvengono sulla faccia della Terra, ma il primo obiettivo della Chiesa è la salvezza delle anime. E purtroppo questo non si sente più. Ormai la preoccupazione, e ci ripetiamo per l'ennesima volta, ormai la preoccupazione da parte della Chiesa è semplicemente di realizzare, di poter realizzare una sorta di paradiso o di semi-paradiso qui sulla faccia della Terra. Ma tutto il discorso in merito al peccato, in merito alla militanza, alla lotta che si deve fare per poter salvare la propria anima, questo viene completamente tasciuto. Non se ne parla più. Anzi, addirittura abbiamo visto come negli ultimi giorni si è preteso anche scrivere un documento, ne abbiamo parlato, un documento che poi provvidenzialmente, io sottolineo questo avverbio, provvidenzialmente ha suscitato anche delle reazioni da parte dei diversi episcopati, eccetera. Un documento dove addirittura è inutile che ci nascondiamo dietro a sofismi che sarebbero anche, diciamo, vergognose utilizzare. È un documento in cui di fatto si benedice relazioni peccaminose, quale possono essere relazioni di divorziati, di sposati, oppure relazioni tra omosessuali. Per cui la preoccupazione è solamente una preoccupazione di piacere al mondo, la preoccupazione è solamente una preoccupazione di creare una situazione confortevole in questo mondo, e ci si è invece dimenticati totalmente del peccato come problema più grave e della salvezza delle anime. Ed ecco perché la nostra preghiera, le nostre preghiere sono fallimentari, perché non chiediamo prima di tutto il regno di Dio, ma pretendiamo chiedere altre cose e se pretendiamo chiedere, vanno chieste anche altre cose, ma se pretendiamo chiedere prima di tutto altre cose, allora non si ottengono né queste cose, né tantomeno la salvezza della propria anima e quindi la realizzazione del regno di Dio. Cari pellegrini, ci diamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti.